Mi chiamo Germano AK e voglio raccontare a voi che, 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 andando su YouTube sai troverete Degli artisti che sono bravi, sono bravi Patrick Zabattini, Gianni Miri, Danny Mauro, Ruben e Nicolosi sono veramente bravi Io vi consiglio di ascoltare tutte le loro canzoni e poi condividere tutti insieme a Facebook Dai ragazzi, andate ad ascoltare, mi chiede un bel mi piace, poi la te chichate Dai ragazzi, andate ad ascoltare, mi chiede un bel mi piace, poi la te chichate Patrick Zabattini, adonascio ogni pensiero e poi Gianni Miri con il brano senza te Danny Mauro col tua canzone, un amore finito e bene Nicolosi sta arrivando il nuovo album Patrick Zabattini, Gianni Miri e Danny Mauro, Ruben e Nicolosi sono veramente bravi Io vi consiglio di ascoltare tutte le loro canzoni e poi condividere tutti insieme a Facebook Dai ragazzi, andate ad ascoltare, mi chiede un bel mi piace, poi la te chichate Dai ragazzi, andate ad ascoltare, mi chiede un bel mi piace, poi la te chichate